Buongiorno a tutti, Italia sconfitta dalla Turchia nel volley il fenomeno antropova a cui è stata tratta la cittadinanza per meriti sportivi che poi vorrei ancora capire quali sono perché non ha ancora vinto niente abbiamo dovuto far entrare la nostra Paola Egonu il miglior opposto al mondo per giocarcela almeno alla pari contro una squadra nettamente superiore sicuramente le scelte di Mazzanti non hanno pagato e sicuramente la dimostrazione che tutti i 3 a 0 fatti contro squadre mediocri poi quando incontro una squadra vera va in difficoltà sicuramente è stata una bella partita giocata alla pari però diciamo che secondo me l'allenatore ha le sue colpe e secondo me poteva avere un finale diverso mettendo in campo Egonu dall'inizio pazienza giochiamoci la medaglia di bronzo rimaniamo comunque tra le migliori nazionali del mondo